Questo è un governo solido, è un governo stabile. Io non avrei bisogno di fare questa riforma, è un rischio per me fare questa riforma. Ma se chi ha l'occasione per la prima volta in molti anni di lasciare davvero un cambiamento che possa domani essere utilizzato da tutti in positivo, cioè la possibilità di avere chiaramente un mandato, chiaro, dai cittadini, dal popolo e la possibilità di avere cinque anni per realizzarlo. Se io non lo facessi, se non cogliessi questa occasione, non per me ma per chi ci sarà tra molti anni o nella prossima legislatura perché la politica funziona così, non sarei in pace con la mia coscienza. Questo è il tema. Quindi sì, mi sono esattamente posta il problema di come può essere utilizzata da chiunque e penso che possa essere utilizzata da chiunque in positivo una riforma di questo tipo. Dicevamo nell'ambito di questo lungo dibattito a me piace citare Costantino Mortati, uno dei padri del costituzionalismo italiano che nei primi anni 70 diceva non sembra dubbio che la preferenza debba andare alla elezione popolare del primo ministro, ciò soprattutto allo scopo di porre accanto a questo organo responsabile davanti al popolo dell'indirizzo politico di cui è espressione un capo dello Stato che non desuma la sua investitura direttamente dal popolo.